Si rinnova come ogni anno l'appuntamento con la tradizionale festa dedicata alla Patrona di Diamante. La popolazione festeggia in questi giorni l'incoronazione della Vergine Immacolata a Patrona della città. Il programma delle celebrazioni ecclesiastiche è iniziato lo scorso 3 agosto con il Novenario e le meditazioni di fede, ma è domenica 12 agosto, il giorno nel quale tutto il popolo diamantese e i tanti turisti ormai legati alla tradizione cittadina porteranno in processione la statua della Madonna per ripetere il gesto dell'incoronazione avvenuto nel 1928. La leggenda racconta come la Vergine Immacolata abbia scelto Diamante come sua dimora e narra la storia di un bastimento che si bloccò misteriosamente proprio davanti al paese. I naviganti decisero di liberarsi della statua lasciandola nella chiesa. Il mistero è la magia del rapporto tra la Vergine Immacolata e Diamante sta nelle dita della mano sinistra. La leggenda racconta che quando la statua entrò nella chiesa aveva le braccia incrociate sul petto. La mattina dopo il parroco la trovò con tre dita aperte. Un gesto che venne interpretato come segno di protezione da fame, guerra e terremoto. Da quel momento la popolazione in festa impedì che la statua potesse ritornare sul bastimento. Miti, leggende o semplicemente un profondo senso di fede. La festa del 12 agosto è in ogni caso per la città di Diamante un giorno speciale. Grazie a tutti.